Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo delle normative delle comunità energetiche. Lo facciamo con il nostro ospite, l'avvocato Francesco Acerboni, che è proprio professionista di questa materia. Avvocato, buongiorno. Allora, torniamo a parlare di comunità energetiche. Oggi ci soffermiamo proprio sulle normative. Quali sono le normative che regolano le CER? Il tema è molto importante, perché di fatto dentro una comunità energetica l'energia viene prodotta dai pannelli fotovoltaici e poi attraverso l'inverter distribuita nell'immobile, poi in rete, esattamente come si faceva prima che le CER nascessero. Quindi le CER nascono perché c'è un cambio normativo completo. E questo cambio arriva innanzitutto dall'Europa. L'esperienza è prevalentemente della Germania, dove le CER esistono da anni e sono molto diffuse. L'idea è che tutta l'Europa si sposta in questa direzione per fare in modo che l'energia sia prodotta e consumata a chilometro zero. Quindi la normativa europea è una normativa che parla a tutta l'Europa, con 25 stati e 25 ordinamenti molto diversi. E l'Italia è uno di questi. Allora, quando si pensa alla normativa sulle CER c'è un livello generale molto ampio, che è quasi un foglio bianco, dove ciascuno può disegnare la CER che gli piace di più. E si può passare da una società per azioni a una associazione non riconosciuta. In mezzo ci sta storicamente la fondazione. Quindi la normativa lascia la possibilità di costruire la CER come meglio si desidera. Dopodiché, fatta la figura, c'è molto dettaglio invece nel funzionamento. Qualsiasi sia la forma che si è scelta, poi devono funzionare allo stesso modo. Hanno dei vincoli che sono legati al fatto di dover ridistribuire la ricchezza che producono ai loro associati e utilizzarla nel territorio dove si è consumata l'energia. Quindi nell'ambito della stessa cabina. E questo, chiamiamolo secondo step, invece è normato a livello nazionale, locale? A livello nazionale, a livello di decreti ministeriali, perché poi è molto che si cala nel pratico, anche perché di fatto una comunità energetica esiste quando è caricata nel portale del GSE e il GSE è in grado di prendere i nostri contatori, che vengono chiamati POD, punti di distribuzione, comunque il contatore bianco che siamo abituati, legge i dati dei contatori in consumo e in produzione e nella stessa fascia oraria sovrappone i dati e crea l'autoconsumo, che è virtuale, tecnicamente è prodotto dai software. Se non entri nel gestionale software del GSE non esiste una comunità energetica e quindi la normativa di fondo è la normativa del GSE. Diciamo che quando si parla di normativa, magari gli ascoltatori possono spaventarsi. Allora salutandoci, anticipo agli ascoltatori che la prossima puntata sarà dedicata a Ceritali, una realtà che proprio può venire a supporto delle Cer locali.